Ci troviamo a Taranto, in pieno centro cittadino, via Nazario Sauro, a pochi passi, a pochi metri da Corso Umberto. Guardate lo stato dei marciapiedi, è davvero qualcosa di inquietante. Mi domando come mai tante altre zone, tanti altri marciapiedi del Borgo Umbertino siano stati rifatti, mentre qui ci troviamo proprio davanti ad un affossamento, a uno sprofondamento, a un precipizio. Qui è matematico e scientificamente provato che si cade. Guardate qui se è possibile una cosa del genere. Come mai questi marciapiedi non vengono rifatti? Non dormiremo dinnanzi a questo dubbio, ma proseguiamo. Ci sono altre cose in via Nazario Sauro. Non solo sul marciapiede, sul tratto che vi abbiamo mostrato, si registra lo sprofondamento. Anche a poche decine di metri il quadro è ugualmente pietoso. Sprofondamenti su sprofondamenti. Ma attraversiamo la strada e troviamo la foresta urbana. Guardate un po'. Erbaccia che non viene rimossa. È incredibile. Nel pieno centro cittadino. Guardate. Una vegetazione spontanea. Io penso che ormai la misura sia colma. Siano trascorsi parecchi anni, ma evidentemente non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.